Cuneo chiama Roma e voi lo sapete questo sequel di parlamentari del nostro territorio che abbiamo incontrato di volta in volta nella Gran Dacce proprio per fare il punto con loro di quello che è la situazione generale del nostro paese ma ovviamente poi riportando il tutto sul nostro territorio, sulle criticità che purtroppo vediamo tutti i giorni ancora davanti a noi e sulle quali aspettiamo ovviamente delle buone notizie. Questa sera abbiamo ospite in studio una donna abbiamo l'onorevole Monica Ciaburro buonasera benvenuta e mi affianca come sempre l'ostegista perché mi piace chiamarlo così Marcello Cavallo ben ritrovato anche a te. Buonasera, ma scusa perché hai lasciato per ultimo l'onorevole Ciaburro tra tutte le interviste? Allora innanzitutto, non è che volevi privilegiarla? No, 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 innanzitutto perché queste puntate cadono nel mese della donna e sono il mese di marzo c'è un fiorire di iniziative in questo periodo proprio a sostegno della donna ma non solo, andiamo verso la primavera e Monica Ciaburro è solare, devo dire che si adatta proprio bene al periodo, al tempo, nonostante, adesso ti dico chi è Monica Ciaburro, nonostante sia sindaco di Argentera, che se vogliamo magari un po' più di neve c'è, no? Quindi l'inverno un po' più freddo fa, per cui dovrei dire che era rappresentante della montagna, delle difficoltà della nostra montagna perché ci sono, ma anche delle temperature più invernali invece ti ho associata Monica alla primavera e faccio anche un'aderoga in questa puntata, do del tuo un onorevole, però Monica è Monica, insomma ci conosciamo, c'è la solidarietà femminile, invece tu dovresti darle del lei, perché devi mantenere quella distanza di genere, la famosa distanza di genere che vale la pena di sottolineare nelle occasioni informali. Per cui le darò del voi? Perché no? E lei parlerà in pluralia maestatis, quindi cambiamo tutti i sistemi. Ma salutiamo Monica Ciaburro dicendo che Monica Ciaburro è per la prima volta onorevole, quindi prima volta entrata in Parlamento, e ci è entrata anche con un minimo di attese in più degli altri, vero Monica? Che quella storia è rimasta un po' in sospeso, noi aspettavamo di dire ma ce l'ha fatta la Ciaburro o no? E non si sapeva. È stato un periodo particolare, perché sono passati diciamo dal 4 marzo qualcosa tipo 16 giorni, comunque un periodo lungo, ma avvertivo più quasi la sollecitazione da parte dei giornali, eccetera, che non la mia, perché poi di fatto appunto, stando ad Argentera, avendo i problemi, non ci pensavo quel che deve essere, e dicevo stiamo con i piedi per terra, se deve succedere succede, se non deve succedere nulla di… Cioè lasciavi al fatto… Sì, 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 assolutamente sì. Al fatto della decisione. Del resto… Allora, se tu dovessi… Ma il tuo oroscopo cosa diceva? Non lo guardavo. Il suo oroscopo, scusi. Allora, mi risulta che lei sia una riete. Una riete. Allora, aspetta che poi sentiamo… La viva sentire Remo Pepino. Sentiamo Remo. Io non lo guardo l'oroscopo. No, ma noi in diretta possiamo sentire… Il nostro maestro di oroscopi. Facciamo l'esperto di oroscopi. Il nostro professore che fa anche l'astrologo. Intanto mentre… Stai seguendo, sì, stai seguendo. No, no, perché lui ci guarda in diretta. Quindi, ah, devo dirglielo, periodo difficilissimo. Porca miseria. Però sono un po' in difficoltà a dire tutto questo. Qualcosa di positivo? Ah, c'è. Ah, boh, allora glielo dico. Va bene. Grazie, ciao, 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 ciao. Allora, dice il nostro esperto di oroscopi, il professor Pepino, che avrai un periodo difficile, di rapporti difficili tra maggioranza e minoranza. Si riferirà a maggioranza e minoranza parlamentare. E parliamo che intanto lei rappresenta i fratelli d'Italia, eh, perché forse… Mi hai conto che dici che in amore è un periodo splendido. Meraviglioso. E va bene. Ti consolerai col cuore, eh, quindi va bene. Ma… Non ho fatto commenti su questo, niente. Ma il periodo è difficile sicuramente, lo vediamo, per cui… Non mi spaventa più di tanto questo oroscopo, ecco, mi piacerebbe riuscire a capire… Si incontro, vedi, noi donne siamo pratiche. Prattiche. Non dobbiamo assondere, evidente. La vita è piena di oroscopi, basta affrontarli e superarli, no? Esattamente. Quindi, senti, ma io vorrei sapere invece, da un punto di vista proprio femminile, l'impatto con Roma, com'è stato? Beh, l'impatto con Roma, proprio il primo giorno, è stato sicuramente molto emozionante. E entrare alla Camera dei Deputati e immaginare quei corridoi percorsi da persone… Ecco, ma tu hai trovato gente che conoscevi, hai salutato qualcuno. Beh, qualcuno sì, sicuramente, perché poi, vabbè, c'erano i colleghi piemontesi, altri che conoscevo… Ma fate combutta fra di voi, vi trovate spesso a Roma, oppure… Perché sai come succede, no? Nei piccoli… No, però sai che c'è un suo collega che corre, lei cosa fa, Roma? È vero, il suo collega corre, ma non so, tu nel tempo libero… Il tempo libero è verlo, perché di fatto il viaggio da Argentera a Roma e il ritorno è molto impegnativo, proprio in termini di… Peraltro tu hai sempre questo impegno amministrativo che non è da poco… Esatto, e con la situazione abbastanza complessa, per cui resta veramente poco tempo, anzi direi che non ce n'è più, ne ho molto meno di prima, ecco. Ma quando tu sei a Roma, praticamente dalla mattina alla sera stai in Parlamento? Praticamente sì, perché l'aula… Beh, poi non c'è una regola assoluta, però l'aula è sempre convocata in mattinata, ma al tempo stesso ci sono le commissioni. Certo, non c'è l'obbligo di presenza, però a me piace soprattutto, essendo proprio così una novellina, ecco, seguire tutti i passaggi per capire intanto come funziona questa nuova macchina, capire come usarla per essere utile sul territorio e quelle che sono le esigenze della nostra comunità. E quindi stai tutto il giorno? Assolutamente sì, poi quando interrompono l'aula c'è la commissione convocata, per cui spesso il pranzo si fa con le barrette di cui sono sempre munita. Come ciclisti? Eh, certo, però con facendo ciclismo non so se è un guai. Lei è abituata a, come dire, a scarpinare in montagna, no, immagino? Eh, io adesso scarpino di più in macchina perché faccio tanti, tanti, tanti chilometri che poi sono soltanto il fine settimana perché la parte centrale della settimana è su Roma. Ecco, ma tornando alla tua vita, tutta la settimana c'è tutta la settimana? Quando parti? Il lunedì? È lunedì sera, mattina, dipende, di solito la notte in modo da massimizzare. Ecco, da oltre, esatto. Poi torni il giovedì sera? Il giovedì sera, barra notte, perché spesso dobbiamo prendere l'ultimo volo che è quello delle 21 e 25, se riusciamo, ad esempio ieri siamo riusciti a rientrare prima, però poi da spostarsi all'aeroporto, in tempo di anticipo, il volo, poi da Torino, cioè da Caselle ti devi spostare e poi fino ad arrivare qua, media 6-7 ore. E poi è il weekend che devi dedicare a Argentina. E si sovrappongono sempre molte cose, perché poi il comune è assolutamente da seguire, ma anche da Roma lo seguo, perché di fatto ci sentiamo se ci sono delle questioni. Meno male che ci sono le nuove tecnologie rispetto al passato. Assolutamente sì, sarebbe impensabile se no. Ecco, ecco, ecco il modo in cui uno strumento può essere molto utile, così come può essere anche molto dannoso se usato male. Certo, quindi tempo per te? Poco. Pari a zero. Però io non conosco la Monica Ciaburro, l'onorevole Ciaburro, ma lei ha degli hobby, ha delle passioni, è vero che magari adesso li ha accantonati, ma insomma, la conoscerò anche un po' sul piano personale. Io sono sempre stata una persona molto curiosa, per cui mi sono sempre interessata di tutte quelle che sono le manifestazioni dell'uomo, per dire, faccio un esempio molto banale. Un uomo inteso come sesso maschile. No, no, un uomo come razza, per cui se veniva... Non è una questione di genere. Avevo cinque anni, veniva l'idraulico a casa, ero incuriosita dal suo lavoro, cercavo di capire il perché facesse così. Quindi ha senso pratico. Però mi fa anche l'idraulico. L'ho fatto, anche l'elettricista, per carità. Non mi sono mai tirata indietro nulla, per cui sono... Tutto questo fare, no, in questa esperienza che richiamava prima Daniela, l'è servita, cioè, è una cosa che l'è servita anche a livello romano e continua a servirla. Non credo che faccia l'idraulico. No, 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 l'idraulico, lì sai che hanno degli idraulici della camera, che... Hanno degli stipendi... Fa venire un po' il prurito, diciamo, perché mi accorgo ancora di più di quanto sia difficile, dal problema alla soluzione, tutto quel meccanismo di burocrazia, lacci-lacciuoli, che veramente rendono l'operatività molto farraginosa, molto lunga e spesso non contuale. Non sono tempi nostri, eh, a Roma, sono più lenti e quindi bisogna anche adattarsi a mordere un po' il freno. Forse lei è in una commissione particolare, no? È la della semplificazione. A volte su tante situazioni invece il tempo manca, ad esempio in commissione, proprio perché ci sono queste audizioni rispetto alla PAC, piuttosto che a vari provvedimenti che passano in commissione, alla fine non abbiamo il tempo di... Monica, mi incuriosisce questa commissione della semplificazione, ma voi veramente state semplificando? Allora, quella della semplificazione è una commissione bicamerale, dove ci sono sia parlamentari che camera e senato, confluiscono insieme, e infatti della nostra provincia c'è anche il senatore Taricco. Taricco, quello che corre. Esatto. E in realtà è stata convocata solo due volte per capire come iniziare i lavori, perché l'hanno istituita molto tardi. Adesso mi diceva il Presidente che la prossima settimana, ecco, questa la convocano ancora prima dell'aula e delle commissioni... Quelle consuete. Esatto, per cui intorno alle otto e mezza solitamente, e poi si corre anche lì, perché bisogna spostarsi, perché non è nello stesso edificio. Certo, certo. Però speriamo sia utile, ecco... Ma noi ce l'auguriamo, perché un po' di semplificazione... Anche perché sennò diventa poco gratificante. No, la mia fissa proprio che ho dentro il cervello è che quando si istituiscono delle commissioni per, siano un'occasione per prendere tempo. Lei che ne pensa, che ne dice rispetto ad esempio alla specifica della commissione sulla semplificazione? No, io mi auguro che non sia così, poi sinceramente essendo la prima esperienza non posso pronunciarmi rispetto a questo. Però bisogna non confondere quelle proprio istituzionali, che sono le bicamerali, che ogni anno vengono istituite, ogni anno, ogni legislatura, e quelle invece che vengono proprio istituite per un problema specifico, per cui avevano fatto la commissione per il caso Aldo Moro. Diciamo che sono due cose diverse. Quella di cui faccio parte, mi auguro che appunto i lavori siano quelli di portare sul tavolo quelle che possono essere delle procedure semplificate in vari ambienti e contesti, per poi arrivare a dei risultati un po' più veloci. Io la contesto, perché secondo me è anche un discorso di procedura, ma è un discorso di persone, di testa delle persone. Io sono d'accordo con lei su questo, ma per qualsiasi cosa. La persona, per quello che ci mette, sia come impegno che come passione, che come voglia di fare, fa la differenza rispetto a qualsiasi situazione. E però qui il cambiarla è dura. Eh lo so. Se io cambio una procedura e semplifico un modello, insomma tutto sommato è semplice. Quello che è lo sforzo che andrebbe fatto è proprio di cambiare le modalità con cui le persone si pongono. Cioè in alcuni enti, ad esempio io conosco meglio l'IMS, ad esempio, lì veramente c'è stato un cambiamento proprio di mentalità, di impostazione. Ah ma lei parla di protocollo, quindi? Non di protocollo, di impostazione mentale delle persone che ci lavorano. C'è proprio una semplificazione, cioè che viene dalla disponibilità a porsi al servizio delle persone. Ecco, però questo secondo me non può esserci un modello che uno cala nella persona e in quanto tale lo acquisisce. C'è la persona che caratterialmente è più predisposta ad essere accogliente, a mettersi nei panni dell'altro, cercare di capire e provare a avere risposto. Secondo me ci vogliono entrambe le cose. Sicuramente ci vuole una persona più disponibile e anche un modus operandi che sia quello più efficace per dare dei risultati. Perché spesso, è vero, ci sono, ma questo capita anche da noi, alcune commissioni, alcune realtà, alcune entità che vengono create e che poi hanno la lentezza del bradipo. E quindi anche nell'elaborare, nel pensare, nel valutare per poi traghettare sull'efficacia, ci mettono tempi talmente lunghi che forse i risultati... Sicuramente chi è a capo di queste strutture, commissioni, eccetera, se dà un modello, un metodo... Da ritmo. Deve dare ritmo, a farlo con una musicista. Allora sì, ci si deve adeguare. Ma poi quel qualcosa in più viene dato dalla persona, perché può partecipare in modo assolutamente passivo. Onorevole, una volta, almeno l'impostazione, e in alcuni ambiti è ancora così, cioè che il concetto era diamo tempo al tempo, per cui se devo ricevere dieci persone, ma se ne ricevo solo quattro, va bene lo stesso, io intanto passo la giornata, eccetera, eccetera. Io credo che è vero che è un fatto di metodologia, è vero che è un fatto soggettivo, ma che bisogna trovare dei metodi, dei sistemi, anche per stimolare le persone, perché se no arriviamo a dei casi che sono davvero caffiani. Quindi le persone che lavorano nella pubblica amministrazione, che lavorano a contatto con la gente, con il pubblico, bisogna trovare un sistema attraverso gli incentivi, attraverso delle... Meritocrazia. Ecco, la meritocrazia... Quella verosa parola importantissima, poco, molto usata, ma poco applicata. Poco applicata e applicata male, perché viene applicata linearmente, c'è questo premio, lo spalmo su tutti, così alla fine chi non fa, o è più svogliato, o andrebbe incentivato, continua a non fare. E chi invece fa e vede che la persona a fianco dice chi me lo fa fare, alla fine c'è sempre un ribasso di azioni. Questo non vuol dire che noi ce l'abbiamo con chi lavora negli enti pubblici, eccetera. Perché devo dire che nella mia vita ho incontrato delle persone davvero splendide, davvero in gamba, davvero disponibili, eccetera. Qualche volta, però, parlando però di semplificazione, parlando di nuova impostazione della macchina pubblica, questo è un aspetto forse di cui... Io le faccio un esempio molto banale per chiarire il mio pensiero rispetto a questo. Quando un papà, una mamma, hanno un figlio che sta andando a scuola, possono decidere due cose, o impegnarsi e seguirlo, e gratificarlo anche chiedendo lui come è andata la scuola, hai fatto i compiti, facendo e mostrando interesse per quello che fa lui, e quindi il bambino si sente anche importante perché il papà e la mamma si interessano a lui. Oppure decidere di l'hai fatto, punto, e non controllare nulla, eccetera. La stessa cosa si può traslare nel... Quindi è un impegno che lei prende qui da noi, stasera? Il controllo, secondo me, non è il controllo di chi vuole ghigliottinare, No, 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 assolutamente. Ma serve anche alla persona che sta facendo il lavoro, che se nessuno si interessa, esattamente, viene valorizzato e viene anche gratificato, perché si è fatto bene e te lo... Se no, dice, nessuno si interessa a me, il mio lavoro è inutile. Perdi interesse. Perdi interesse nel tuo stesso lavoro. E anche un discorso di equitratta tra chi si impegna e chi non si impegna, tra realtà diverse anche territoriali, eccetera. E comunque chi si impegna deve essere premiato in qualche modo, che poi sia un premio reale, concreto, oppure sia una gratificazione anche morale. Ma a me basta il grazie perché quello... Ecco, però questo ci vuole. Ma ai parlamentari c'è differenza tra i parlamentari che si impegnano di più, Daniela, o quelli che si impegnano di meno. E questo lo chiediamo a lei. Allora, lo dobbiamo chiedere a lei. No, perché tu... Non sono parlamentare. Tu hai incontrato tanti politici nella tua lunga attività. Anche che io posso rispondere poco, perché sono le persone che poi devono dire, o comunque riscontrare un impegno rispetto a un altro. Un altro esempio, se io vado alle poste e trovo una cassiera che è più attenta, si impegna di più, cerca sempre la soluzione, quindi dedica più tempo a me, utente, chiaramente cerco di andare sempre da questa cassiera. Se trovo l'altra che invece... È sbogliata. ...sbogliata, non si può fare, cerca di mandarmi via subito. Io c'ho un'altra tecnica. Cerco di non andare tanto da questa qua. Poi, però, è l'utente che deve decidere. Ma questo non significa generalizzare. Ecco, questo io ho una cosa che... Voglio fare una domanda di tipo quasi personale. Ma lei, no? Nella classifica tra i parlamentari che si impegnano di più e quelli che si impegnano di meno, dove si colloca? Non mi dica che si colloca a metà, perché è una risposta che non... No, io non mi colloco. Perché io non so quanto faccio... Sì, non mi piacciono queste classifiche, ma in questo senso. Io so quanto faccio io e quanto del mio tempo ci dedico. Poi magari ci dedico anche più tempo, perché sono all'inizio e non sono così veloce. Magari qualcun altro riesce a fare molto di più con meno tempo, non posso dirlo. Io sono sempre... No, che risposta buonista. Ma non è buonista. Bisogna... È una risposta equilibrata. Fermiamoci un po' qua e andiamo avanti. Allora, per lei, Giorgia... Aspetta, scusi, c'è una contraddizione in termini. Fermiamoci qua, andiamo avanti, è una contraddizione in termini. Fermiamoci qua, su questo, al momento. E andiamo avanti sul resto. Ah, ok. Giorgia Meloni, l'ha conosciuta. Beh, Giorgia Meloni... L'ha incontra. Sì, è una donna assolutamente straordinaria. L'unico capo donna, se siamo nel mese della donna. Ma è stata anche la parlamentare più giovane che è entrata in Parlamento e anche la... Ecco, su lei posso dire l'impegno. Il ministro più giovane. Quindi, Giorgia Meloni ha bruciato le tappe. E si è sempre, sempre, sempre dedicata alla politica, per cui, politica, per come la intendiamo noi, nel senso, impegno nei confronti, quindi a servizio della gente, non per servirsi di posizioni o ruoli importanti per se stessi, ma proprio... C'è una sorta di solidarietà femminile con Giorgia Meloni e voi, parlamentari donne? Sì, ritengo di sì, anche se ritengo che, in generale, noi donne facciamo molto poco squadra. Siamo molto poco solidali. Spesso lo siamo con quelle che io definisco un po' più maschiacci, come modo di affrontare le situazioni. Questo è un peccato, ma... Esiste ancora questa rivalità femminile? Io non l'ho mai sentita. Perché mi pongo proprio come un maschiaccio, spesso e volentieri. Mi spiace, ecco, invece, vedere quando emerge questa non solidarietà, che non è... Che sarebbe, invece, portatrice di, come dire, di azioni condivise che farebbero sicuramente raggiungere risultati più importanti, quando invece, soltanto per, non lo so, qualcosa che non è logico, non è razionale, uno frena delle... Quindi le donne non riescono a unirsi, a fare gruppo, ma rimangono sempre divise. Perché? Perché hanno delle caratteristiche, lo sappiamo, siamo donne noi, quindi ci rendiamo conto che a volte la competitività della donna nei confronti di un'altra donna è sempre preminente rispetto al fatto di lavorare insieme. Ma a parte questo, noi viviamo anche in una situazione nazionale, internazionale, che ha molte sfaccettature, molte contraddizioni e soprattutto parliamo da tanto tempo di Europa Unita, quando in realtà abbiamo ben visto che l'Europa Unita non c'è, non l'abbiamo mai realizzata. E quindi adesso ci avviciniamo al periodo elettorale, qui c'è da rinnovare gli organi dell'Unione Europea, non soltanto anche di parte delle amministrative e del nostro paese, e qui casca l'asino, insomma, questa Europa. Ma noi vogliamo proprio questa Europa? La vogliamo o non la vogliamo? La vogliamo cambiare? Proprio per questo, questa settimana, visto che c'è Monica Ciaburro, quindi la sensibilità anche di una donna parlamentare, abbiamo sguinzagliato il nostro Matteo Garniero, delle vie della città, ad andare a chiedere ai cunesi se Europa è sì o Europa è no. Vediamo. Si parla tanto di Unione Europea in questo periodo di Europa, secondo voi Europa sì e Europa no? Europa sì direi. Sono sempre per l'Europa e non tanto per l'Italia, perché c'è una cosa che non si può più vivere. Invece di migliorare andremo sempre più alla povertà. Europa sì. Io ci starei dentro. Ma sì, perché senza Europa cosa facciamo? Sicuramente Europa. Sì, perché anche perché comunque se ti devi spostare non hai più problemi del passaporto, alla frontiera, alla dogana, tutto sommato è comodo, una volta era più problematico, però... sull'Europa siamo tutti d'accordo, bisogna capire quale tipo di Europa vogliamo. Europa sì. Sei un europeista? Sì, sì, sì. Non sono ben informato, non so. L'Europa dovrebbe essere diversa, come l'America, tutti gli Stati Uniti, invece qua ognuno fa per conto suo. Perché hanno fatto gli Stati Uniti? Facciamo anche gli Stati Europei e diventeremo forti anche noi, no? Anche noi, io sono africano, però sono 30 anni in Italia, quindi sono favorevoli per me, per i miei figli, per le generazioni prossimi. Un Stato Uniti d'Europa dovrebbe avere una politica estera comune, una difesa comune, un esercito comune, no? Adesso mancano tutte queste cose? C'è nulla, ma non solo non c'è nulla, non c'è anche la volontà di farlo. L'Europa sì, ma con delle regole giuste. È uguale per tutti. Dobbiamo guardarci i fatti nostri, l'Europa la lasciamo lì e non possiamo comandare quegli altri più forti di noi e noi dobbiamo contentarci di far andare bene l'Italia. Secondo me ci dovrebbero essere molti cambiamenti e ogni Stato dovrebbe essere allo stesso livello e non che stanno levando i finanziamenti all'Italia, che credo non sia una cosa giusta, solo perché il governo attuale italiano faccia delle cose che alla Commissione Europea non piaccia. Invece cosa vorrebbe dire a quelli che dicono no, l'Europa no, insomma non... Eh, vorrei dirgli di accontentarsi di quello che abbiamo, perché potremmo andare anche peggio. L'Unione fa la forza. Perché l'Europa con tanti paesi insieme possono fare qualcosa, un paese da solo non fa, quindi una mano da sola non applaudisce, ci vanno tutti e due. Saremo seguiti più tanto dall'Europa, perché in Italia mi sa tanto che non c'è progresso, non c'è niente, c'è tanta confusione. Ed eccoci di nuovo qua, abbiamo sentito pareri discordanti, ma un filo comune c'è. Insomma, l'Europa c'è, dovrebbe continuare ad esserci, ma forse dovrebbe essere un po' diversa da quella attuale. Su questi temi poi continueremo la nostra chiacchierata con l'On. Monica Ciaburro e con Marcello Cavallo a Fra Pochissimo.